Controlli a tappeto per scovare gli sversamenti abusivi, nuovi depuratori e interventi su quelli malfunzionanti, verifica del corretto uso delle vasche IMOF da parte delle utenze non collegate alle fognature, in particolare quelle delle centinaia e centinaia di casette e fai-da-te realizzate nel poster remoto. Sono solo le prime azioni previste dall'operazione Aterno Fiume Pulito, lanciato oggi dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e dal vice sindaco ed ex magistrato Nicola Trifuoggi. Avvio ufficiale il 7 ottobre con un incontro tra tutti i soggetti istituzionali ma anche con le varie associazioni che hanno un ruolo nella tutela di un fiume oggi inquinato e che deve tornare ad essere vivo ed una risorsa per l'intero territorio. Il 7 di ottobre abbiamo convocato come Comune dell'Aquila, noi ci offriamo come coordinatore, abbiamo convocato tutti i protagonisti, tutti gli attori dalla regione in giù e nel frattempo però ho cominciato ad acquisire i dati per cui adesso abbiamo già dei semplici dati alla Gran Sasso d'Alco e tutte le persone che sono allacciate e cerchiamo di capire adesso quelli che invece non risulta che scaricano sempre le fogne. C'è poi nel medio e lungo periodo il progetto che prevede di implementare la portata del fiume con l'acqua della diga del lago di Campotosto e la realizzazione di due grandi vasche di espansione a nord della città per mettere al riparo del rischio di esontazione l'intero territorio. Ma sottolinea Trifoggi, questo non porterà nessuna sanatoria delle casette possismiche fai da te costruite abusivamente in zona alluvionale. I soldi ci sono, 25 milioni di euro e il Consiglio di Stato ha dato definitiva via libera all'intervento. Noi abbiamo un'ordinanza della protezione civile che finalmente ha passato il vaglio di tutti i ricorsi fatti che prevede il recupero di una media di 1000 litri al secondo dalla diga che darà acqua alla gran sasso acqua se serve per farci bere con la potabilizzazione ma soprattutto ridarà vita al fiume. Poi mettiamo in sicurezza, in modo più possibile naturale, senza mai cementificare o fare altri pasticci il fiume rispetto al rischio di esondazione, togliamo tutti i fattori di rischio e facciamo tornare il fiume a essere una fonte di vita.